bene ok siamo in streaming dal vivo su facebook e buona serata a tutti i nostri soci amici collegati come sempre la parola giovanni polli che presenterà anche questa serata grazie a tutti di essere qua voce microfono microfono eccomi qua grazie marco allora una buona serata alle amiche gli amici ai soci sostenitori dell'associazione gelberto netto e tutte le altre persone che comunque ci seguono live e allora questa sera è una serata del drago un po particolare perché c'è un relatore soltanto ma un relatore comunque di grande spessore perché sull'argomento è ferratissimo appunto da essere assolutamente uno dei più importanti docenti di milanese sul territorio parliamo della di grandissimo amico piero migicrola e lui rappresenta anche la credenza di sant'ambrogio e tutta una tradizione che affonda le radici parliamo della lingua milanese o meglio sarebbe dire per essere più precisi la lingua lombarda di milano poi naturalmente una questione terminologica che noi abbiamo già affrontato in passato nelle nelle nostre conferenze precedenti comunque lingua lombarda di milano lingua milanese o milanese per capirsi è la lingua del territorio che si parla nella città di milano ed intorni e più ci si allontana più diventa ariusa ecco poi spiegherà meglio per luigi allora io vorrei soltanto annunciare appunto che questa sera sarà una conferenza un po particolare perché non si parla solo di milanese e solo di carlo porta quest'anno è il bicentenario del letterato in lingua milanese forse più è più noto perché si trova anche nelle antologie almeno si trovava nelle antologie che si studia delle scuole superiori io ho la mia memoria personale e di avere studiato proprio in tempi del liceo quindi in tempi magari non il carro porta non sarà da solo e carlo cataneo pure lui parlava in milanese scriveva in milanese ma proprio il tema della serata sarà vedere il inter relazioni tra i due carlo e e vedere anche l'inter l'inter relazione che c'è tra il milanese del porta il milanese di cattaneo che cosa scriveva carlo porta che cosa scriveva cattaneo e soprattutto anche il rapporto che esisteva tra i due e la lingua dell'ufficialità che sapete quella che sto utilizzando io quindi una serata molto ricca molto densa so che pierluigi dovrà parlare di molte cose è un bravissimo oratore per cui pierluigi benvenuto vedo che ci sei buonasera eccola qua eccoci qua ti lascio la parola a te la parola buonasera a tutti quindi cominciamo il nostro dibattito guardando la locandina abbiamo cattaneo e porta uno di fronte all'altro come se si guardassero negli occhi come se volessero confrontarsi in effetti un dialogo immaginario sul tema della lingua il confronto immaginario anche se il loro pensiero sull'importanza della lingua milanese e lingue locali in generale è autentico anche se con qualche sfumatura lo vedremo in seguito il nostro dialogo immaginario sarà quindi un dialogo a distanza prima vedremo che cosa significa e ha significato il porta per la lingua e la cultura milanese poi nella seconda parte vedremo le considerazioni di cattaneo sullo stesso argomento che prenderanno spunto proprio da quello che ci ha lasciato in eredità il porta sono come abbiamo detto due commemorazioni in quest'anno due anni per i lombardi un anno molto importante non solo per loro perché il 220esimo anno della nascita di carlo cattaneo e il bicentenario della morte di porta e fra quattro anni sarà il 250esimo anno della nascita di carlo porta come vedete qua sono due facce della stessa medaglia una più politica l'altra più letteraria che per hanno portato avanti idee spesso tradite dai sposteri e vedremo come mai per quale motivo parliamo di carlo porta una premessa sono importanti tre premesse perché il porta è importante per tre motivi primo non si è mai nascosto in un mondo virtuale ma sempre collocato la sua opera nell'attualità e se fosse vivo oggi l'avremmo definito uno scrittore impegnato perché ha sempre denunciato i limiti e l'ipocrisia dei potenti attenzione però non ha criticato le categorie la nobiltà il clero i ricchi hanno criticato le persone che sbagliavano un po come il maggio che se la prendeva quei vizi quindi lui non se la prendeva con le categorie ma con le persone che sbagliavano secondo è importante il suo messaggio perché oggi a circa due secoli distanza oserei dire che è purtroppo attuale questo avverbio purtroppo perché perché come si dici storia magistra vite la storia non è stata maestra per niente perché le stesse problematiche vedremo che c'erano ai tempi del porta e che sono partite da lontano vedremo parlando del discorso lingua dialetto partivano già da dante si sono sono rimasti mutate se non poggerate ancora oggi terza cosa più importante che ha scritto in milanese dimostrando che anche una lingua non considerata ufficiale o franca come dir si voglia alla sua dignità come tutte le altre è un potenziale uguale se non superiore a quello a quelle considerate ufficiali e quindi non c'è distinzione tra lingua locale e lingua ufficiale non esiste lingua di serie a e lingue di serie b ogni lingua ha una sua dignità per cui il motto che ho messo in fondo sembra provocatorio ma è un invito a riappropriarci delle nostre radici l'arno si è inquinato torniamo a risciacquare i panni nel naviglio o vediamo un attimino una breve premessa sulla sua vita parlando della vita del porta uno potrebbe pensare a un'esistenza noiosa suddivisa tra un monotono impegno amministrativo e il componimento delle sue poesie un secchione che a tempo che esercitava il suo lavoro a tempo perso scrive a poesie e nella vita era impegnato soprattutto nell'impegno amministrativo nient'altro invece non è assolutamente vero perché ha avuto una vita molto movimentata quindi qua vedete la chiesa di santa maria degli angeli a monza dove ha studi ha fatto i primi studi poi la sua vita è come non è stata piatta tutt'altro viaggi donne fuga venezia per ragioni politiche poi ancora di torno a milano anche per intriga amorosi teatro patriottico di nome di fatto e soprattutto la sua gran passione la letteratura in lingua madre era una persona estremamente vivace e per niente noiosa e poi vedremo che importante anche il periodo in cui ha vissuto perché lui ha vissuto a cavallo di due dominazioni quella francese quella austriaca e paradossalmente queste due dominazioni gli hanno fornito tanti spunti l'unico difetto che possiamo addebitare al porta e di essere un po un democristiano anteliteram un taie medega perché come vedremo più avanti è vero che lui criticava i francesi ma lo faceva quando se ne stavano andando oppure faceva un bellissimo sonetto tramite una metafora tecnologica che tu cai che alicante champagne saltando l'autonomia dei nostri vini contro il tu cai che la austriangheria champagne la francia e alicante la spagna contro i vini stranieri quindi saltando la nostra autonomia però lo faceva all'interno di un sonetto dove diciamo che salutava l'ingresso di un altro padrone ecco importante per capire il porta e anche capire però l'epoca nella quale nel quale vissuto che è stata come vedete qua ci sono diverse fotografie che illustrano molte cose che sono state fatte in questo periodo lo vedremo sotto tre punti di vista dal punto di vista storico social sociale e culturale dal punto di vista sociale diciamo che vediamo che il primo periodo in cui vi importa si trova e 1774 nasce quindi abbiamo in questo dove c'era il regno illuminato in maria teresa vediamo che venivano fatte delle cose molto importanti la pubblicazione dei delitti delle penne del beccaria fondazione del piu albergo trivulzio l'installazione dell'archivio civico l'abolizione del tribunale dell'inquisizione installazione dell'archivio notarile costruzione del teatro della canoviana oggi il lirico istituzione della biblioteca di brera della camera di commercio in alzamento della madonina sulla guglia maggiore istituzione dell'accademia di belle arti inaugurazione del teatro la scala e molte altre cose che sono state causate dalla politica riformatrice innovatrice di maria teresa tra cui la riforma fiscale tributaria e l'istituzione del catasto che ancora oggi che diciamo ancora quasi fino oggi è ancora un esempio per tutti poi però c'è un altro periodo la situazione politica situazione politica diciamo che invece ha subito un continuamento oscillo di oscillamento oscillazione di padroni vediamo nel 92 muore leopoldo secondo cui succede il figlio francesco secondo nel 96 6 maggio il governatore di milano ferdinando si ritira il 14 maggio ma sena e 15 entrano a milano a napoleone entrano a milano la giunta austriaca viene sostituita abolita da un'amministrazione generale di lombardia nel 1797 viene inaugurata la repubblica alcis alpina nel 99 il 28 aprile gli austriaci ritornano ristabilendo l'ordine istituzione arbusti asburgiche soffocando duramente i timulti riprendono il possesso di milano nel 1800 torna napoleone con la battaglia di marengo sconfice definitivamente gli austriaci poi nel 1802 viene costituita la repubblica italiana con una serie di iniziative come potete vedere via il progetto di apertura della piazza d'armi a ridosso del castello il completamento alla facciata del duomo l'istituzione una scuola veterinaria la ripresa della costruzione del naviglio pavese l'inizio della costruzione dell'arena l'istituzione del conservatorio la posa della prima pietra dell'arco della pace e tante altre cose meritevoli come l'istituzione della commissione di pubblico ornato da cui deriveranno le sovrintendenze l'istituzione della borsa di commercio e molte altre cose diciamo però che per fare una battuta di ladri porta se ne intende in che senso nel senso che c'è la famosa battuta non tutti gli italiani sono ladri ma a buona parte sì perché ovviamente napoleone ha fatto molte cose buone però ha provocato anche grossi danni alla economia e alla popolazione locale per esempio ha favorito unicamente l'economia transalpina danno di quella locale ha fatto una drastica riduzione della mano d'opera da cui risultavano esempi sugli ecclesiastici in abili padri famiglia per le sue guerre all'estero e poi la campagna di russia la conseguente sconfitta di lipsia hanno portato tutto questo a una serie di gravi danni disagi non solo economici alla nostra popolazione tant'è vero che nel 1814 c'è il ministro delle finanze al ministro delle finanze prima viene diciamo viene trattato ti viene fornito un trattamento non proprio di riguardo tant'è vero che c'è il detto milanese tela fu famì la fin del prima cioè in pratica venne ucciso per le ingenti tasse e non solo per quanto riguarda la situazione culturale può sembrare paradossale ma nonostante tutte queste vicissitudini socio economico politiche le guerre le tasse la miseria invece c'è un risveglio culturale molto importante o veniamo adesso alla produzione letteraria del porta che è molto variegata in qualsiasi campo il porta parlato nelle sue opere di identità di lingua di autonomia di libertà di questioni politiche di questioni sociali ha parlato di tantissimi argomenti tutti molto attuali nel questa sera ci soffermeremo sulla lingua però la cosa importante della sua produzione letteraria possiamo dire che possiamo guarda considerare due due punti di vista uno contenutistico e uno temporale contenutistico nel senso che vediamo che le sue opere si possono sommariamente ridurre in tre filoni il primo contro le superstizioni e l'ipocrisia religiosa del tempo il secondo descrittivo con di vivissime figure popolari milanesi e il terzo più propriamente strettamente politico invece per quanto riguarda il livello temporale possiamo considerare a livello cronologico quattro fasi gli inizi dal 1800 1811 circa caratterizzati dalla sua dalla traduzione milanese in chiave anche parodistica perché su questi in questi giorni sui giornali si è scritto tanto che la sua divina commedia milanese era soprattutto una cosa comica e basta invece n'era solo comica anche parodistica ma non solo la fase luministica dal 1812 al 1814 dove vengono descritti vi è scritta la condizione umana nei particolari nei con particolari più crudi e qua rientra il discorso della ninetta la ninetta non è che viene descritta con certe parole per un desiderio morboso anzi può essere più volgare boccaccio dove non viene detto neanche una parolaccia ma la malizia che è sottesa le sue opere molto più volgare e non il dramma della ninetta dove viene usato magari qualche parola un po forte però per esigenze realistiche la fase della prima restaurazione quella austriaca e poi la fase critica che verso la fine con poesie che riflettono anche in polemica con i suoi avversari i classicisti concezioni diverse di poesia e non solo anche di contenuti e la critica e verso certi regimi che culmina con i poemetti meneghin beredex monen la nomina del cappellan e la preghiera contro un conservatorismo politico sociale contro il degradio in ideale vedremo che sia nella preghiera che la nomina il cappellan ci sono delle situazioni paradossali addirittura in cacangiasa un cane vale molto di più della vita di un prete di qualsiasi altra persona ecco le fonti altra cosa importante questa una dei fattori che ci fanno comprendere la grandezza di questo poeta non è rappresentato solo dalla sua bravura metrica stilistica e contenutistica ma anche dalle fonti cui si è ispirato che ci rendono e doti sul suo spessore culturale vediamo si va da boccioli ho messo in ordine dronologico per città terra e quindi si va dalla letteratura nostrana all'inghilterra alla germania la francia quindi un ambito poeta internazionale e internazionale per quei periodi voleva dire mondiale e anche non solo quindi abbiamo visto le fonti ma importante è anche la sua l'aspetto metrico lui era molto bravo nella metrica e fonti a parte la sua grandezza risiede anche nella padronanza della metrica rappresentata da una varietà impressionante di soluzioni stilistiche adottate come vediamo non c'era solo l'indecasillabo oppure il classico sonetto due quartine due terzine ma vediamo che c'è tutto una sono tutta una serie di soluzioni stilistiche alternanza di quartine sestine settimine ottavi di indecasillabi e settenari terzine di indecasillabi quartine di indecasillabi eccetera 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 che ci fanno vedere quindi l'abilità di questo ci mostrano l'abilità di questo poeta ecco qua vediamo alcuni esempi di indecasillabi e settenari settimine ondistico di finale di indecasillabi tra l'altro oltretutto alcune volte in alcune poesie non solo aveva l'abilità metrica tutte queste abilità metriche varie varie di varia metrica ma addirittura alternava un verso milanese un verso in italiano qua vediamo alcuni esempi ecco adesso entriamo proprio l'argomento vive proprio il porta e la lingua passiamo dal teorico al pratico analizzando solo una minua parte ovviamente per motivi di tempo delle varie sfaccettature affrontate al porta nel difendere la nostra e tutte le lingue locali in generale ci accorgeremo di quanto siano tremendamente attuali le sue osservazioni dico tremendamente perché purtroppo a due secoli e passa di distanza non solo sono rimasti mutate ma sono peggiorate qua vediamo una cartina con la diffusione del lombardo in europa o importanti sono questi concetti adesso sono concetti importanti che mi piacerebbe leggere perché devono essere ben scolpiti non si può partire dallo strumento che usava per esprimersi che non è solo uno strumento ma un'arma una delle più potenti per recuperare la nostra l'identità la lingua lo vedremo dopo questo concetto quando parleremo di un grande siciliano che è butitta e il concetto principale associato alla lingua è quello del razzismo si può essere razzisti non solo discriminando tra bianco il nero il cattolico e l'ebreo ma anche decidendo arbitrariamente quali siano lingue di serie a e lingue di serie b dimenticando che tutte le lingue i dialetti provenienti al popolo sono uno strumento più democratico che ci sia dunque se difendiamo solo una parte di queste lingue si perde una parte di democrazia a questo proposto vorrei fare un cilino viene citato nel secondo punto la famigerata legge 482 barra 99 con la quale lo infatti italiano era stato aveva ricevuto una minaccia dalle istituzioni europee di infrazione e allora detto benissimo per farla per mettermi la coscienza a posto io faccio una legge che salvaguardia le minoranze però guarda caso minoranze sono state considerate proprio le minoranze nel senso numerico del termine ladini valser mochini in tutto diciamo esageriamo eh mezzo milione di di parlanti in tutto su 60 milioni di abitanti mentre altre lingue milanese che aveva una propria letteratura aveva una propria grammatica una propria storia sono state ignorate ma potremmo dire milanese non è mai stato lingua ufficiale benissimo il veneto invece stato lingua ufficiale repubblica della sernissima eppure il veneto neanche questo è stato considerato ma un'altra porcata maggiore scusate francesismo è che eh non solo vengono discriminate lingue di serie a e lingue di serie b ma addirittura ladino è salvaguardato però ladino delle province di trenta e bolzano è salvaguardato ladino della provincia di belluno quindi ampezzo fodomli viene a lungo non è salvaguardato perché è una ragione statuto ordinario come dire se io due figli uno sta in casa e l'altro se ne va a abitare per conto suo l'altro non ha diritti quindi ancora una volta un'altra prevagricazione quindi non solo differenze tra lingue di serie a e lingue di serie b ma all'interno delle lingue di serie a il lo stato italiano discrimina ulteriormente una speranza invece ci viene dalle parole di un scrittore marcello sinsini che su un libro eh della montadori per la scuola dice i dialetti italiani nati dall'evoluzione del latino parlato anche se vera solo parzialmente questa affermazione non sono linguaggi rozzi inferiori da combattere come deformazioni della vera e unica lingua italiana essi sono vere e proprie lingue hanno una loro struttura grammaticale organica un loro lessico una loro storia e hanno naturalmente una loro piena espressività la stessa lingua italiana cioè il fiorentino altro non è che uno dei tanti dialetti nati dall'evoluzione del latino parlato solo quelle particolari circostanze situazione culturale esercito naturalmente hanno fatto sì che il fiorentino diventasse lingua nazionale prima per l'uso scritto e poi anche se mai in modo definitivo e totale per l'uso orale in pratica i dialetti della lingua nazionale si equivalgono pienamente sul piano del valore linguistico chapeau tanto di cappello un intellettuale fuori dal coro che eh usa questi termini anche se io l'unica diciamo imperfezione lingua nazionale nel senso che se andiamo a vedere su qualsiasi atlante vediamo portogallo lingua ufficiale portoghese tra parentesi naz cioè nazionale eh italiano lingua ufficiale eh Italia lingua ufficiale italiano tra parentesi uff cioè l'italiano non è a lingua nazionale ma una lingua ufficiale comunque a parte questa diciamo sottigliezza questa piccola tra virgolette differenza vediamo che c'è ancora qualcuno che ha il coraggio di dire le cose come stanno e per eh vedere nel comprare in pratica questi concetti vediamo un attimino come si esprimeva il porta c'era Pietro Giordani come vedete uno schermino a fianco che diceva che recita letterato classicista imbevuto di delle uministe progressiste redattore della biblioteca italiana eh vicino agli ambienti liberali fiorentini praticamente per lui il la lingua italiana è il massimo tutte le altre lingue di serie B e degne di disprezzo ecco in questo sonetto il porta anticipa di circa duecento anni il concetto di pari dignità tra tutte le lingue perché una lingua non è superiore inferiore in base al numero dei parlanti allora il cinese dovrebbe essere una lingua e l'italiano un dialetto perché il cinese lo parlano un miliardo e rotti di persone e l'italiano lo parlano solo 60 milioni di persone quindi non è una lingua non si può discriminare in base al numero dei parlanti e neanche al territorio però il porta qua ci dà una lezione c'era un certo signor Gorelli che era venuto a Milano questo era un senese che appunto perché essendo senese dice il toscano è la lingua nazionale tutti quelli che non parlano il toscano non valgono niente e lui il porta gli dice i parole d'un linguaggio carciur Gorel in una taulossa de culur che ponfa il quadre brut e ponfa vel secondo la maestria del pittor senza idee senza gust senza un cervello che regola i paroli del discorso dice i linguaggi del mondo in come quel che parla un suo milissimo servitore esti dei stupi un gust già il saverà che non è in privativa di paese ma di cui che ganflema di studiare tanto è vera che in bucca di ufficuria cioè di vostra signoria è il bellissimo linguaggio di sienese del linguaggio più cui un che mai dice te ciappali non è finita appunto qui perché il porta descriveva questo abbagia van che sarebbe pietro giordani in un modo molto abbagia van nel senso di stupido in modo molto colorito largo largo che passa don giovanni conto il gran valizun di sottalene può far debrio può d'asma il gaffin den e il gran segreto di drissa in gambe ai cani cioè praticamente questo gran signorone uno che ha il segreto di raddrizzare le gambe ai cani che è una cosa impossibile ma anche inutile era un disprezzo nei confronti di questo pietro giordani che nella sua rivista scriveva i dialetti mi haiono somiglianti alla moneta di rame a comunicare coi prossimi le idee più basse triviali basta ciascuno l'idioma nativo cioè i dialetti sono lingue di buzzurri del popolo bue non è l'italiano che a un certo punto conta e a questa provocazione come risponde come risponde il porta diamo per scontato che l'italiano sia rozzettino e dialetti siano solo rami ma se dobbiamo pagare una certa cifra il rame buono come loro zecchino non c'è differenza l'unica differenza sta nel peso e nella leggere della leggerezza in letteratura poi poi abbiamo un altro concetto che esprime che è molto importante una conclusione mi sembra significativa l'italiano è e non si vedono le pagine si vede adesso sì ma sono alla pagina ancora delle fonti no io sono le poesie non si vede no sono ancora fermo ma è arrivato un altro che l'ha detto è scritto confermo che si vede solo soltanto le fonti si è bloccato qua faccio interrompi condivisione e rientro si prova e fai così grazie sì sì perché sei lì bloccato è interrompi condivisione aspetta che provo a rientrare condividi si vede aspetta aspetta un attimo deve arrivare un attimo solo no non si vede quello che si chiama il bello della diretta questo perché con tutte le prove che si possono fare prima quando arriva il momento del momento giusto per un conto va bene poi si è bloccato sì cosa devo fare prova a uscire un'altra volta dalla condivisione e prova a rientrare interrompi condivisione abbasso quel powerpoint condividi schermo dobbiamo ancora aspettare un secondo per vedere se si avvia o se soltanto un fauna non si avvia il caran così bello ma tu per luigi sul tuo computer si vedono normalmente tutto normale sì mio powerpoint scorre tranquillo allora probabilmente ci deve essere stato un qualche problema di ordine proprio di software di gestione della della comunicazione probabilmente su zoom ipotizzo eh allora a questo punto possiamo anche fare una cosa potremmo anche prendo io la parola faccio due o tre puntualizzazioni nel frattempo tu per luigi potresti uscire e rientrare proprio dalla condivisione se Marco è d'accordo allora sì provo a fare in un altro modo intanto che voi parlate vedo di trovare io sono uscito adesso vi vedo benissimo sono uscito perfetto da la condivisione adesso cosa deve cosa cosa facciamo Marco cioè lui si dovrebbe scollegare proprio dalla sessione no no va bene così provo io fate pure le domande che dovete fare provo io a anche perché ce l'hai anche tu il powerpoint Marco sì sì che pensi mi ah ecco ciao Paglia ciao visto che siamo in temi eh ciao allora sì abbiamo avuto un intervento di Giancarlo Paglierini che l'abbiamo visto finalmente eccolo eccolo qua tu dimmi avanti che lo mando avanti io indietro tu parla avanti 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 ancora sì avanti anche se si legge poco va bene vai avanti lo leggo tanto quanto avanti siamo proprio indietro vai avanti ancora di almeno 5-6 pagine eravamo arrivati a pagina 21 eravamo arrivati 21 eh ma non ne abbiamo lette non ne abbiamo lette ecco qua qua a un certo punto il discorso è questo che a un certo punto il 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 porta faceva una considerazione cioè visto che il Giordani diceva noi italiani abbiamo la lingua migliore e voi non valete niente il porta ha detto ragazzi facciamo immaginiamo il contrario che noi milanesi avessimo tutta la eloquenza la cultura degli italiani e gli italiani fossero un paese di pesci vendoli allora nonostante questo noi non faremmo come fate voi di uccidere la lingua locale ma ci batteremmo perché anche la vostra lingua considerate infinitamente inferiore possa avere pari dignità e questo pensiero condivido consentitemelo solo un milanese poteva farlo questo pensiero nobile sei milanese e che infine si riferisce il due sono 12 volumi che lui ha scritto contro il giordani perché appunto diceva bastonava il milanese era fortemente discriminatorio allora scritto 12 volumi tra l'altro uno di questi sonetti bellissimi c'è dentro un sonetto caudato che poi accenderemo dopo per facvedè eccetera eccetera parleremo dopo che è molto importante vai avanti peruzzi ok ecco questo è il sonetto che vi dicevo prima qua vedete c'è da fare una piccola considerazione stilistica voi sapete che il sonetto è due quartine due terzi indiandeca sillabi questo è un sonetto caudato cioè con la coda un telcun come dice il porta vediamo la prima riga sono indecasillabi per fac vedete tu ca pro pi cum ma attenzione che l'indecasillabo si basa sulla sillaba piana undici sillabe quando la e come in questo caso è tronca sono dieci sillabe quindi comunque sono indecasillabe quattro due quartine due terzine di indecasillabi poi l'ultimo ca alla fine dell'ultimo indecasillabo c'è un settenario pres dunkel vegnasa e sotto altri due indecasillabi che riman tra di loro giget balestree poi a sua volta c'è ancora un settenario burme che fa rima con i primi due giget balestree e poi un altro due altre indecasillabe mardian e cardan e poi ancora ci sarà un settenario che rima con quest'ultima sillaba quindi praticamente una abilità stilistica notevole ma oltretutto anche contenutistica perché in questi 128 versi non li ho messi tutti perché se no ci vuole un powerpoint enorme solo per quello però lui in pratica non solo ha fatto una cosa grande nello stile ma anche nel contenuto perché in questi 128 versi lui ha descritto proprio come schiaffo morale alla Bajavan tutte le persone che si sono fatte onore in vari campi letteratura storia scienza antichità argenteria incisione architettura pittura scultura giurisprudenza politica matematica calcoli astronomia milizia musica diplomazia teologia artigianato ciao passo e porta come dire che altro che essere inferiori come lingua e come cultura vai avanti qua vediamo il cattaneo scusate la c minuscola non è colpa mia quindi qua passiamo a cattaneo che è la faccia tra virgolette politica del porta quindi passiamo adesso al secondo Carlo come direbbero gli inglesi last but not least cioè l'ultima minga per questo è meno importante cominciando da una breve biografia che c'era stato in cattaneo vedete una breve biografia praticamente è un po' un tuttologo ma non in senso negativo nel senso che lui è stato filosofo linguista è stato storico ha fatto tantissime cose addirittura è diventato deputato però poi ha detto si è deputato in questa assemblea di ciucchi per non dire altro e ha rifiutato il Parlamento e è andato a rifilarsi a morire nella castagnola vicino a Lugano quindi e anche il suo pensiero vai avanti Peruzzi purtroppo dobbiamo stringere però ecco qua vedete in quest'icona c'è raccolto il suo pensiero può sembrare un brutto disegno poi spiegheremo perché quindi le considerazioni fatte sulla tremenda attualità del porta che a distanza di due secoli non ha visto che peggiorà la situazione linguistica della nostra amata lingua madre milanese valgono anche a livello politico per questo predicatore inascoltato di un federalismo che purtroppo al giorno d'oggi ha visto solo una pallida impostazione regionalistica da un lato contrapposta agli strapoteri delle regioni a statuto speciale il tutto condito da un centralismo in etnia efficiente per cui il nord è il pagatore il sud è il riscocciore senza nessun beneficio in nessuna direzione ma cosa voleva in realtà il Cattaneo la sua figura ce lo dimostra in maniera chiara come ci sono gli Stati Uniti d'America come si vorrebbero fare gli Stati Uniti d'Europa pur utopia visto gli interessi contrapposti lui voleva un Stato federale un Stato inutile Italia quindi capiamo ora facendo considerazioni del giorno d'oggi dove anche un misero referendum sull'autonomia molto ridotta e molto blanda sia in autonomia sia in Lombardia che in vento abbiamo visto diciamo i risultati che ci sono stati possiamo vedere quanto questo concetto cataneano sia molto lontano dall'essere diciamo realizzato si pensi anche alle macro regioni di Miglio si pensi in Italia federale addirittura a una confederazione sarebbe ancora meglio come la Svizzera ma qua stiamo facendo sogni pindarici come se uno mirando alla Ferrari o alla Post dice sono costretto ad andare in giro con una panda scassata che ogni 5 minuti deve fare una revisione quindi purtroppo il discorso è questo vai avanti ancora le sue opere ecco qua è importante perché a dimostrazione che il cataneo non fosse lo spraveduto ce lo dimostrano le sue opere che non sono ristrette ad un'unica branchia del sapere ma estremamente diversificate si passa dalla storia alla filosofia dalla linguistica alla politica addirittura dell'India antica e moderna si passa dalla Lombardia all'India dal politecnico a considerazioni linguistiche e vediamo adesso al punto della lingua per fare questo però è importante vedere una nota introduttiva che fa la Gabriella Cartago sui milanesi il dialetto altra altra diapositiva dopo questo breve excursus intellettuale concentriamoci sull'aspetto peculiare di questa conferenza ovvero sulle riflessioni che il cataneo ha fatto sulla lingua locale e lo facciamo partendo da una nota introduttiva di Gabriella Cartago del breve saggio sui milanesi il loro dialetto anche se alla fine poi vedremo purtroppo una citazione del cataneo stesso ci fa intravedere una sua pecca parzialmente in contrasto con quanto affermato in precedenza cosa dice questa nota della Cartago che ci spiega un po' il succo del saggio del cataneo quindi dice che i punti che si possono estrapolare dalla lettura di queste sei brevi pagine sono l'esaltazione della poesia dialettale fonte di qualità e tradizione la cultura milanese in età romantica acquisita un peso enorme quindi grazie anche la salta di porta le rivendicazioni della positività della letteratura dialettale questo dialetto inosservato all'Europa hanno parlato di un milione di popolo a due secoli di letteratura e in nostri tempi Milano nonostante il letteroclito dialetto sembra aver preso un certo primato letterario sulle altre città d'Italia è dunque parte del nostro orgoglio municipale che la sferza troppo presto caduta di mano a porta non giaccia in altra suolo ma si rialzi si agiti di quando in quando e ne faccia accorge di essere vivi questo diceva lui e poi il terzo punto il conflitto tra i romantici che possiamo considerare grossomodo filo dialettali o filolingue locali i classicisti che erano dalla parte opposta ecco l'unico discorso l'unico citazione che mi lascia un po' perplessa è quella che fa Cattaneo riguardo all'accettazione della lingua italiana come strumento facilitatore degli accordi tra le varie parti del paese e di una lingua franca come fattore unificante dalla cultura della lingua venne lo spirito nazionale il quale in ragione inversa dell'uso di dialetti in ragione diretta all'uso della lingua comune quindi qua ho messo come nota un taglie medega in questo caso come il porta perché adesso dove c'è la globalizzazione nessuno più parla il milanese un discorso può essere di un certo tipo ma quando per esempio a Milano tutti parlavano milanese anche fino all'inizio degli anni del novecento dove molti sono venuti a Milano meridionali e hanno imparato il milanese perché lo parlavano tutti questo discorso di fare un discorso di questo tipo come spirito unificatore lascia un po' perplessi è un po' come se dicessimo i catalani sì va bene il catalano però bisogna accettare il castigliano per fortificare il castigliano il catalano lasciamo un po' in un angolino quindi questa è l'unica considerazione che lasciamo potremmo diciamo sulla quale potremmo avere un piccolo obiezione vai avanti o adesso qua vedete sui milanesi il loro dialetto in occasione della traduzione della poetica di Orazio per cui è partito poi da quel libro per fare questo discorso voi vedete qua avete delle varie persone personaggi importanti a Milano Piani Matematico Cardano Volta Giovanni Raiberti e poi in mezzo la lingua milanese oh e qua è importante un altro concetto da buon storico anche quando parla della lingua lo fa per sottolineare l'aspetto identitario a 360 gradi della nostra immensa traduzione culturale lingua come spunto per esaltare gli intellettuali di qualsiasi campo che ha visto Milano come protagonista nei secoli proprio come ha fatto il Porta nel sonnetto caudato che abbiamo visto prima per far vedete lo scopo di questo breve ma intenso saggio è come nel citato sonnetto Portiano non di far vedere solo la grandezza della lingua che a Milano era importante anche in letteratura ma tramite la lingua mostrare al mondo la grandezza di Milano in vari e vari gatti campi e a proposito di questo andiamo la successiva diapositiva vai questo l'abbiamo già detto vai in poche righe questo è il succo adesso vedremo una foto ecco qua vediamo cinque foto dove noi possiamo vedere Lombarsbrüche Hamburgo San Francisco Lombar Street Rue de Lombar a Parigi o anche a Bruxelles tra l'altro da notare che dove c'è la foto in Bruxelles c'è il bilinguismo prima scritto in fiammingo in vallone e poi in fiammingo come polizia e poi a Londra nella City il cuore economico i Londri gli albionici che sono molto nazionalisti nel come in una delle principali vie economiche nella City in cuore economico di Londra ha messo una via dedicata ai Lombardi Lombardi che a quel tempo per onestà non voleva dire abitante Lombardia ma padani in un certo senso la Lombardia allora era intesa come il nord quindi vediamo questo importante vai avanti concetto la Lombardia era riconosciuta all'estero e qua dice lui a proposito di quello che mi ha detto prima la degradazione della plebe involgeva nella dimenticanza i più agroriosi nomi Alciato Cardano Cavalieri e tutta la schiera degli artefici Luini Procaccini Daniel Crespi il Caradosso gli operatori tutti del Duomo della Certosa non si sapeva più che il nostro popolo primiero fra i moderni aveva risuscitato gli ordini nella fanteria e sgominato gli squadroni ferrati della feudalità si dimenticavano i sette eserciti di Federico Barbarossa si dimenticavano i caducchi fasti della nostra industria soffocata alle protezioni spagnole e il commercio di Parigi e di Londra fondato dai banchieri lombardi come abbiamo visto le foto e le opere imperiscibili della nostra agricoltura ricordiamoci le marcite e il primo esempio di canali navigabili dato dai nostri all'Europa e i nostri prati verdeggianti nel verno cioè in inverno e i nostri statuti irrigatori che le più culte nazioni d'Europa non hanno ancora né raggiunto né tampoco intesi la cultura degli spagnoli di tutte le istituzioni vincolanti umilianti oscuratrici di cui quella nazione fu per si lungo tempo tenace ha perso il campo la vita intellettuale cominciò così quella bella successione di splendidi ingegni Beccaria Parini Pietro D'Alessandro Verri Oriani Appiani Zanoia Cagnola Altre meno Eccelsementi Secondare L'opera di quei sommi Frisi Pini La Maria Agnesi S'aggiunsero i molti venuti da ogni parte ad abitare con noi o ad illustrarla vicino università Muratori Carli Passeroni Suave Scarpa Volta Tamburini Monti Foscolo Rasori Gioia e Romagnosi e a fianco a destra vedete tutto l'elenco delle professioni e l'età in cui sono vissuti queste persone vai avanti qua vediamo appunto la concezione le prossime due foto che vedremo sono due considerazioni si riferiscono a due considerazioni importanti una in parte che abbiamo già visto cioè che la grandezza di Milano a livello intellettuale qua l'identità del Brelin Vico dei Lavandai e da questa identità popolare si diramano i vari campi economisti teologi architetti filosofi scrittori letterati fici astromi inventori come i fratelli cistercensi le marcite pittori politolitologhi come gioia educatori giuristi e discorso messo una da vinci perché era un po' un tuttologo perché era pittore era scrittore era inventore era un po' e matematici come il Cardano quindi la prima considerazione è questa Milano eccelleva in moltissimi campi la seconda la vediamo non me ne vogliono quelli che non tengono questa squadra ma non è una pubblicità vai avanti la seconda lo so che Peruzzi vorrebbe censurarne anche Polli oh qua ho fatto vedere questa foto qua si scusino gli ascoltatori ecco non perché il sottoscritto è vicino al numero 19 però questa considerazione questa foto ci fa vedere una cosa come Milano non ha grandezza solo a livello intellettuale ma a livello sociale sotto due aspetti la prima il volontariato ricordiamoci che pur essendo la regione più ricca è anche quella che esprime il maggior numero di volontari suddivisi in diverse associazioni di qualsiasi tipo la seconda è l'accoglienza accoglienza non in senso restrittivo solo di estracomunitari ma in un senso molto più ampio milanese non è chi nasce a Milano ma chi si sente milanese a questo proposito per quanto riguarda la cultura milanese e la lingua noi abbiamo avuto il più grande attore milanese del novecento Mazzarella che era nato in un comune del Vercellese ma era originario della Sicilia chi ha scritto mia bella madunina era un napoletano il cantautore Walter di Gemma con sue bellissime poesie all'apice dell'attualità è di origine pugliese il più grande cabarettista milanese Walter Valdi anche lui di origine pugliese un grande poeta del novecento morto nel sessantasette ma poeta regista attore e chi più ne ha più ne metta Barrella era di origine salunitana come Mimo di Miccoli un grande pugliese famoso soprattutto per la canzone Bambu di Navilli ma non solo quindi accoglienza vuol dire accogliere quelli che vengono da fuori a patto che però poi anche tu voglia integrarti e a questo proposito se pensiamo a Carlo Maria Maggi Carlo Maria Maggi che è un grande scrittore del seicento lui a un certo punto l'ha modificata in invece di carlme car milanese questo perché perché attorno al 1600 c'era stata la peste la popolazione di Milano si era dimezzata mi sembra da 120.000 a 60.000 allora Milano ha bisogno degli estracomunitari per mandare avanti la città e gli estracomunitari che sono arrivati di allora erano quelli di Lodi di Cremoni di Piacenza di quelle parti lì e in omaggio a questi estracomunitari lui ha modificato la A in E carlme carlmilen sembra di sentire un po' il piacentino l'odigiano quindi addirittura la lingua come fattore di accoglienza anche linguistica nei confronti di quelli che vengono fuori come ringraziamento quindi accoglienza non nel senso di chi viene qua a spacciare o chi viene qui oppure non vuole integrarsi o vuole parlare solo l'arabo o altre lingue cinese basta non gliene frega niente ma se uno viene a casa mia si integra parla la mia lingua e è milanese a pieno titolo molto di più di tanti milanesi che invece snobbano questa identità e diceva Mazzarella la milanesità non è un privilegio di nascita ma una medaglia che si inguadagna ogni giorno sul campo vai avanti ho queste considerazioni che abbiamo già fatte l'accoglienza e la vai avanti adesso c'è una foto di un siciliano ma è molto caro che anche anche a Giovanni Polli questo signore Nazio Buttitta vediamo ancora il punto di vista linguistico e non si può trascurare la poesia più importante di questo grande poeta che è lingua e dialetto è un siciliano che se tu scori la prossima diapositiva la leggiamo insieme la leggo una colonna naturalmente in italiano un popolo mettetelo in catene spogliatelo tappategli la bocca è ancora libero levate il lavoro il passaporto la tavola dove mangia il letto dove dorme è ancora ricco un popolo diventa povero il servo quando gli rubano la lingua ricevuta dai padri è perso per sempre diventa povero il servo quando le parole non figliano parole e si mangiano tra di loro ma me ne accorgo ora mentre accordo la chitarra del dialetto che perde una corda al giorno mentre tappezzo la tela tarmata che tesserono i nostri avi con la lana di pecore siciliane e sono povero ho i denari e non li posso spendere i gioielli non li posso regalare il canto nella gabbia con le ali tagliate un povero che allatta dalle mammelle aride della madre putativa che lo chiama figlio per scherno noi altri l'avevamo la madre ce la rubarono avevano le mammelle a fontana di latte ci bevero tutti ora ci sputano ci restò la voce di lei la cadenza la nota bassa queste non ce le possono rubare non ce le possono rubare ma restiamo poveri e orfani lo stesso e poi lui concludeva dicendo potranno toglierci tutto ma quando un popolo ha perso una lingua è perduto per sempre quando le parole non generano più parole diceva Giovanni Enzo Butitta e vediamo un po' questo discorso della lingua un po' complesso andiamo prossima diapositiva perché il discorso della lingua non è semplicemente un discorso della nostra parlata e basta ma il dibattito lingua locale lingua franca è cominciato da molto lontano a cominciare dal Dante Alighieri quando in quella sua espressione famosa enter l'ora del vesper cioè fu del meso di Chiover lui diceva è questo qua Bergamasco e Lombardo è una lingua del put che non serve a niente non serve neanche a concorre al volgare si veniva formando poi abbiamo avuto il Lomazzo il Lomazzo che ha fatto Irabisch un'accademiglia in senso provocatorio cioè ha fatto un'accademia però in che senso? All'Arcadia lui ha contrapposto la valle di Blegno quindi non ha un posto ideale ma una valle di Facchini all'accademia luogo degli intitutuali ha contrapposto l'accademiglia al linguaggio aulico classicizzante ha opposto una lingua convenzionale fortemente derivata dal dietro la valle di Blegno una parlata molto dure e osti questo per contrapporsi alla cultura locale al solito discorso della lingua ufficiale andiamo avanti ancora vediamo ancora altri personaggi qua Maggi Balestrieri e Porta e potremmo aggiungere anche il Tessa anche se è venuto dopo qua ci dice dunque Lomazzo anticipatore di questo antisistema che è stata proseguita da altri che vediamo nelle foto anticipava i concetti maggiormente espressi e il Cattaneo diceva questo ma chi guardasse solo a quelle eminenze Monti Fosco l'ipoete dell'interruttura ufficiale italiana nulla saprebbe ancora dello stato del numero che gioceva troppo al di sotto del livello scientifico letterario l'istoria dell'intelligenza comunale non si ne pone negli atti dell'accademia il vero stato degli anime delle anime lo specchio delle abitudini delle tradizioni delle simpatie delle antipatie sfugge alle superbe frasi della letteratura nazionale è la vientracciata della raccolta dei poeti vernacoli la nostra conta tre secoli si possono intolare da tre nomi Maggi Balestriere e Porta io mi permetto di aggiungere il Tessa che è morto nel 39 diceva riconosco e onoro un solo maestro il popolo che parla vai avanti ecco un altro appunto che ci fa il Parini è come la lingua va di pari passo con la società nella modernità i milanesi sono tutt'altro che i rozzi provinciali hanno cambiato la società sia nelle grandi cose che nella vita di tutti i giorni e ci sottolinea ancora il Cattaneo al sudiciume austero degli spagnoli era successa la lindura femmina dei serventi ma intanto gli uomini si incontravano al tarocco e al teatro si accorgevano di essere cittadini del mondo imparavano il francese e le frasi dell'enciclopedia abolivano la tortura e mandavano i cadaveri al camposanto il giorno il cicerone il caffè versavano a grandi sgorghi sulle masse il buonsenso ad un tratto nel tumulto di un secolo che cadeva fra le battaglie ed un secolo che sorgeva ad ambizioni speranze senza umano confine cioè il 600-700 lo spirito comune si atteggiò in pochi anni a nuova esistenza in fretta e in furia gli uomini videro cangiarsi ogni cosa dalle gronde dei tetti fino al salciato delle strade sbaragliati i guardifanti le giuppe la cipria e i bigodini cioè i bigodini e i mendicanti e le crucce e le piaghe i moncherini e le torce dei lacchè gli stafili dei latinisti stravolti i mesi dell'anno stravolti le ore del giorno la cena divenuta pranzo le brachesse slungate in pantaloni le mansuetissime code divenute ciuffi sgarbati minacciosi i parrucchieri per disperazione e cacciarsi a centinaia nei reggimenti per ritornare fra sei mesi se Dio lo voleva a parlare soldato e declamare di bombe e di battaglia la vicinanza storidita e smemorata era uno scompiglio e un trambusto da rompere qualunque sonno che non fosse il sonno dei morti quindi vediamo nel bene e male che Milano è una città che è molto aperta e molto avanti ancora rispetto agli altri andiamo avanti con la prossima oh anche la lingua va di pari passo con la modernità e qua vediamo alcuni dei più importanti personaggi del Porta Carlo Porta la Ninetta e il Marchion e vediamo cosa dice il nostro Cattaneo vai anche la città Milano rinasce rinasce anche la lingua la cui polizia dialettale è vita in confronto alla morte delle accademie ufficiali come abbiamo detto prima col romazzo scrive Cattaneo fu allora che in mezzo ai nuovi giudizi di una plebe imbazzanzita il nostro dialetto si impregnò della più audace ironia nelle storie del Porta ella si unì a tutto il vigore e a tutta la verità di un dipinto fiammingo la moderna poesia di tutta l'Italia non ha una pagina che somigli alla parlante evidenza di quelle scene quando si guarda la poesia vernacola come momento di civiltà come campo in cui più liberamente si svolge lo spirito fugace del tempo e l'indole locale degli uomini come strumento che giunge ad operare entro il latte sempre più intime della società e urte rompifili delle pertinaci tradizioni domestiche e quindi affretta il corso del pensiero e il progresso delle generazioni allora io oso dire che le più terze ed elaborate squisitezze della poesia accademica perdono gran parte dell'infecondo loro pregio adunque se la poesia vernacola giova non solo rappresentare l'intimo spirito degli uomini e dei tempi ma ben ancora dagli spinti direzioni riguarderemo noi questo studio come un'aziosità la quale soltanto per gradi sia meno ignobile del cigaro cioè del cigaro della bottiglia cioè qua ancora il discorso dei classicisti ancorati all'accademia potremmo dire allo status quo al potere ufficiale politicamente corretto mentre il milanese apporta una vera e propria rivoluzione e a questo proposito permettetemi anche una nota con il milanese tra l'altro una lingua estremamente concreta a differenza l'italiano per esempio se io penso l'italiano indagatore è una parola sostantiva astratto il milanese come tutti i lombardi è molto concreto perché indagatore nella purtinara del del barrella non viene scritto con oec indagatur ma oec questurit cioè occhi da questurino cioè l'astratto si identifica in qualcosa di veramente concreto il milanese praticamente sia la lingua che la persona è abituata a toccare con mano non gli interessano i fronzoli e lo stesso anche nella letteratura vedremo noi il monti che ha fatto lode a tanti che hanno fatto lode al pallone eccetera eccetera la mongolfiera il porta altro che parola la mongolfiera si occupava si occupava dei pover è stato l'unico poeta o il primo poeta che ha cominciato a parlare dei vinti della povera gente poi è arrivato il verga ma il porta è stato primo mentre prima si parlava solo dei grandi dei potenti quindi anche in questo caso una rivoluzione è ancora più indegno che non si ricordi anche questo aspetto vai avanti o qua siamo alla fine la conclusione parte dall'inizio nel senso che tutto questo il discorso che ha fatto il porta il cattaneo è partito da una dedica che vediamo qua in centro che si trova su un'opera del Raiberti il medico poeta è praticamente l'ars poetica di Razio tradotto in milanese di cui vediamo qua uno stemma e se vediamo l'ultima diapositiva vediamo a proposito di questo cosa dice il cattaneo leggiamo anche l'ultimo commento la conclusione anche se scritta all'inizio del capitolo si impegna sul fatto che per dirla comporta la lingua come le idee noim privativa di paese ma di cu che gran frema di studiare non si può discriminare una lingua o una cultura e considerarla provinciale e degna di poco rispetto e di minor o nulla tutela solo perché locale è poco considerata al potere altrimenti i veri provinciali diventerebbero quelli che detengono la cultura ufficiale coimirabilmente ricorda il porta nello stesso sonetto tan le vera che imbucca di usciuria e il bellissimo linguaggio di sienese le linguaggio più lunghe mai che sia e qua permettetemi una piccola divagazione anche se purtroppo è mancato da qualche anno io ho fatto consigliere comunale e avevo come assessore della cultura Filippo D'Averio grande storico dell'arte grande personaggio molto colto però quando portavi parlavi di qualcosa milanese non dico che la prendeva sotto gamba però quasi ma il milanese è una cosa provinciale ma questo è l'atteggiamento provinciale tu non devi guardare il carattere provinciale dall'apparenza da come uno si veste da come uno parla devi guardare da quello che dice il porta è molto meno provinciale molto più universale di tanti altri povitucoli da strapazzo che sono portati avanti la cultura ufficiale quindi sottovalutare qualsiasi cultura più che sia un disprezzo è un sintomo di profonda ignoranza come ancora più grave non capire l'importanza del portato di un tale spessore culturale ha cercato il fatto che solo esista la propria cultura e per dirla in canzone tutto il resto è noia e pensate che tutto è partito dalla scoperta di Catania di una traduzione milanese della poetica di Orazio e uno che ha coraggiosamente ha avuto coraggio di tradurre un testo in milanese è degno di notte e lui a margine di questa traduzione ha fatto questa considerazione che mi sembrava la più logica per chiudere questo scherzo di un bello e giovane ingegno che volle sollevarsi con esso dalle cure di più austere uffici cioè questo era i Berti che era un medico e un medico si dedicava alle poesie un po' come gli annacci medico chirurgo che si dedicava alle canzoni dice questo scherzo di un bello e giovane ingegno che vuole sollevarsi con esso dalle cure di più austere uffici re che in fronte una dedica al compianto regalatore della nostra città Carlo Porta così ci rammenta che la catena degli erguti spiriti non è interrotta per noi molti affettano un meritato dispregio della poesia vernacola tra l'altro vernacola ancora brutto perché che riguardano condolazioni alla gloria municipale e alla rozzezza della plebe a danno dell'unità letteraria morale ma se questi volessero intracciare tutte le cause di quel primato che la nostra città al dir di non pochi ha esteso sulle lettere di tutta la penisola dovrebbero forse riconoscere che a dargli spiriti una tempra si calda e ardita contribuì non poco quell'impulso che l'inarrivabile e derisore di tutte le nostre debolezze diede al senso comune e al naturale franchezza del nostro popolo io spero che un giorno saremo capaci di accorderci dell'immenso beneficio che quel acerbo flagellatore ci recava per ora confesso che la lividura e il bruciore ci stanno troppo recenti sulla pelle e ciò che peggio si è molti da quelle strafilati hanno operato poco più che l'odio al flagellatore il più bel sogno delle loro notti sarebbe che le opere di porta fossero sepolte con lui tanto il bisogno che ne hanno ancora grazie per aver avuto la pazienza di ascoltare Luigi allora è stato io non ti ho interrotto eravamo d'accordo che magari ti avrei fatto delle domande ma sei stato così bravo così bravo a tenere a destra anche l'attenzione per cui ho detto cavolo no non guai se interrompiamo la tua bellissima non dico lezione perché la parola lezione in sé ha anche qualcosa di pedante e tu sei tutto di cattedratico e di cattedratico tu sei l'esatto opposto e quindi si capisce anche del perché della tua capacità poi anche di farti ascoltare da chiunque chiunque ovviamente abbia voglia di ascoltarti e allora da tutto quello che tu hai raccontato se mi permetti io vorrei fare un paio di considerazioni due o tre poi ti lascio la parola molto valentieri allora è noto è noto che il rapporto tra lingua in particolare lingua regionale minoritaria in questo caso una variante di prestigio come il milanese variante della lingua lombarda e il potere è un rapporto di conflitto il potere è quello ufficiale allora è molto interessante vedere in questo parallelo che tu hai voluto porre tra un letterato e un politico anche se ahimè devo dire e ahimè il politico non ha avuto molta fortuna in quanto politico e in quanto pensatore perché appunto le sue tesi hanno soccombuto brutta parola però esiste il passato il participio passato proprio soccombuto si dice vabbè è brutto però c'è parlando di lingua italiana quindi non hanno avuto lo spazio che se avessero avuto noi probabilmente non saremo qui a fare questa discussione nel senso che il federalismo di Carlo Cattaneo probabilmente sarebbe stato un federalismo anche linguistico pur se lui non aveva ancora capito l'importanza stessa del federalismo linguistico perché comunque lui aveva sempre quest'idea dell'italiano però aveva molto ben chiara l'idea e queste le ultime cose che tu hai letto lo dimostrano che insomma il rapporto tra chi vuole schiacciare una lingua che non è soltanto la lingua dei rozzi perché parlava del popolo ma è un rapporto di paura perché se non avessero avuto paura di tutto questo probabilmente non avrebbero imposto questa calata di questa colata di cemento e di asfalto che ancora oggi 160 anni dopo la cosiddetta unità d'Italia ovvero la proclamazione dello stato unitario italiano ancora questa questa colata di cemento non ha ancora seppellito completamente le identità e le lingue del territorio per cui questo rapporto che emerge molto chiaramente e poi il gioiello è stato la citazione di Ignazio Buttitte perché più politica della poesia di Buttitte io non credo che esista e quando dico politica intendo sempre non partitica perché bisogna sempre stare attenti perché poi uno dice politica pensa i partiti non c'entrano niente i partiti parlo proprio di politica come gestione della comunità e Ignazio Buttitte che tra l'altro io ho sempre l'onore di poter dire che mi ha prestato lui non lo sapeva ma io sì il titolo della sua poesia come il titolo della mia trasmissione lingue e dialetti infatti ecco Buttitte è stato il primo da un certo oltretutto proveniente anche da un ambito politico ben definito lui era militante del partito comunista nel 1970 perché lingue e dialetti è del 70 a mettere in relazione l'oppressione politica sulla e quindi proprio la devastazione di un popolo compiuta attraverso la devastazione della lingua quindi credo che la sua opera in particolare questa questa lirica che è veramente ogni volta che la sento mi strazia posso dirti e ci sono le traduzioni le avevamo curate ai tempi del gruppo contro lo spot tra i dialetti contro i dialetti del 2010 e un gruppo che è su facebook in sonno però lì ci sono le traduzioni di questa lirica di Buttitte in 10, 11, 12 lingue regionali minoritarie dello Stato italiano bisognerebbe andarle a prendere e ripubblicarle perché la Stata ha fatto un'opera secondo me molto importante proprio l'universalità di un pensiero ancorché se è espresso in una lingua regionale o minoritaria quindi posso dirti una cosa? certo vai allora innanzitutto prima roba io uomo profondo del nord badano indipendentista convinto e speriamo che venga presto alla padagna ammiro un grande siciliano questo cosa vuol dire? vuol dire una cosa faccio un esempio che anche se piccolo mi è venuto mi rimane sempre nel cuore noi per un anno e mezzo abbiamo fatto una rivista il Milanese che era fatta come diciamo l'espresso panorama cioè scriveva di tutto politica fisica economia sport ricordiamo l'editore Sergio Bolzoni Sergio Bolzoni ma ricordato perché ha avuto il coraggio di metterci in cosa di quel genere e che poi purtroppo e me non la lega questa lega la ciò ma anche la vecchia lega quando perdevamo abbiamo chiesto ci basterebbe un abbonamento per ogni sezione di Milano e provincia per salvare il giornale e sono arrivate zero iscrizione tutto chiudere quindi diceva il buononetto che parlare di cultura in lega è come parlare di castità con Rocco Sifredi comunque chiusa la parentesi allora però stavo dicendo no scusa Pierluigi io non devo difendere niente a nessuno però quantomeno sul quotidiano la padania visto che io sono stato no quello sì tu ma perché c'eri tu ecco ma quando vai nelle sezioni quando vai però nelle sezioni tu hai visto che anche quando c'era telepadania io ho letto il telegiornale milanese ne hanno fatto un infregolano e tutto è finito lì no ma parte questo discorso che ci porterebbe lontano io voglio dire una cosa in quella rivista il milanese eravamo io e il Bolzoni due secessionisti convinti c'era uno che è dentro anche in credenza adesso che aveva a casa il busto di Mussolini c'era uno di rifondazione c'era un meridionale socialista e alla fine si è giunto uno di Ceri che diceva beh però se impagate vengono anche io beh comunque alla fine è arrivato anche lui quindi tutto il contrario di tutto dimmi quante litigate abbiamo fatto per motivi ideologici zero perché l'obiettivo era quello a me cosa me ne frega se uno ma se è siciliano ma che i miei stessi valori se è sardo se adesso questo libro che stiamo facendo dove tradurremo il porta un po' in tutte le lingue io sono partito dal Val Serradino eccetera eccetera ma siamo arrivati fino al siciliano al calabrese perché se è una causa comune a me non interessa l'etichetta io ho insiato trent'anni in un carcere a me non interessa l'etichetta che c'è su barattolo che può essere un'etichetta fatta con computer poi magari dentro c'è merce avviata l'etichetta può essere anche un'etichetta dentro c'è merce di prima qualità quindi l'obiettivo è quello invece purtroppo ci si divide ancora destra sinistra centro anche se poi ancora Roma Polo Romunivo è questo discorso vale anche per Ladini quella testa di menta per non dire altro di Benito una volta c'era Ladinia divide ed impera la divisa in tre province e due regioni due regioni quindi Trentino e in Trentino sono in Ladino Val di Fassa tutte le altre sono in provincia di Bolzano e poi c'è Fodom e Ampezzo che sono in Belluno quindi divisione allora divide ed impera perché dividiamo così possiamo sopraffare meglio allora lo stesso discorso della 482 diamo un contentino ai Valser ai Ladini agli occitani eccetera eccetera quindi quelli lì sono contenti e quindi è lo stesso principio purtroppo e invece dovrebbe essere una battaglia di tutti no io non voglio quelle briciole come l'ideale sarebbe a livello politico ma non partitico politico fare un partito unico di tutte le forze sardi indipendentisti valsero citani tutti quelli che credono una causa cioè essere uniti intorno ad un obiettivo comune invece purtroppo ognuno guarda il proprio particolare e questo è lo stesso discorso che facevano i Celti stipirla si scannavano tra i loro intanto Roma avanzava e purtroppo mi spiace dirlo ma anche a Milano un nostro presidente ha cercato di fare la consulta a Lombarda e purtroppo si è fatta però c'è ancora molto attrito perché ogni associazione dice io voglio il mio piccolo potere voglio essere diciamo quello che gestisce il mio orticello ma se ognuno gestisce il suo orticello siamo e siamo dispersi non vinceremo mai nessuna battaglia allora io ho soltanto una considerazione siamo chi è chiaro se tu dici siamo italiani gli italiani non esistono quindi non sono un popolo e non possono avere un destino comune ho detto prima col Portogallo esattamente potrebbero averlo e credo che in una delle serate del drago qua è stato dimostrato con la presenza del grandissimo amico Nando Dice che è un insorgente napolitano ecco potremmo essere veramente fratelli veramente alleati se come tu dici ci coalizzassimo per un un fine comune che non è quello di annullarci ma è quello di riconoscerci nelle differenze e io credo che sia questo il nocciolo di tutto il discorso Carlo Cattaneo così avrebbe voluto un riconoscimento nelle differenze uniti perché diversi e solo perché diversi uniti altrimenti è una cosa artificiale diventa una calata di cemento o di asfalto che è fatto dalla paura e io ricordo ricordo esattamente le parole di Indro Montanelli che era peraltro uno dei giornalisti che io più prendevo come modello come libertà di pensiero però Indro Montanelli dal suo punto di vista difendeva la scelta centralista dello Stato italiano contro quella federalista di Cattaneo proprio perché diceva una cosa assolutamente a mio avviso vera se non avessero fatto così l'Italia non sarebbe mai nata quindi in pratica lui da lui per lui era stata una cosa buona però sostanzialmente che cosa diceva che se non l'avessero fatta con la forza e quindi con l'oppressione la Stato italiana non sarebbe mai nata allora la mia domanda è ma c'era proprio bisogno e necessità di uno Stato oppressivo che ci facesse diventare qualche cosa che noi non eravamo e poi per quale motivo e con quali mezzi con i mezzi della devastazione del genocidio culturale delle nostre lingue ecco quindi gli interrogativi poi sono tanti quando noi parliamo di rapporti tra lingue e politica però quando penso a temi viene semplemente intenso di profonda democrazia dello Stato italiano come hanno disatteso la carta di Chivasso beh l'ho ricordata con un mio live il 24 sabato 24 sul mio profilo Facebook ho voluto farlo perché è mia tradizione è da 24 anni due anni che non lo faccio più in radio perché ho scelto un profilo diverso ma altrimenti dall'allora dall'ex Radio Padania Libera io trasmettevo sempre tutti nell'imminenza del 25 aprile l'integrale la lettura integrale commentata della carta di Chivasso per cui è una mia scelta precisa intellettuale di una parte della resistenza che io onoro e rispetto parlo della resistenza con questa parte che però purtroppo non solo non è stata applicata ma è stata disapplicata e tradita completamente ma non viene nemmeno raccontata proprio perché se venisse raccontata qualcuno si porrebbe delle domande proprio come se venisse studiata a scuola lingua e dialetto di Ignazio Buttitta qualcuno si porrebbe delle domande concludo questo mio intervento poi ti lascio la parola ricordando questa volta facendo un salto logico è un salto anche di argomento è un mio dato biografico però ci tengo particolarmente perché ai tempi del liceo come dicevo prima quando Carlo Porta si studiava un po' di tempo fa diciamo Carlo Porta si studiava e noi avevamo un insegnante di lettere molto aperto con le sue idee ma di una bravura di una grandezza infinita il professor Piovera io lo ricordo sempre che ci aveva dato l'importanza ci aveva segnalato l'importanza anche di queste letterature che venivano considerate minori cioè dialettali al punto che a me è venuta la voglia e incuriosito da questa cosa di andarmi in biblioteca a prendere la Ninetta del Versè e me la sono letta tutta avevo 16 anni 17 anni e addirittura poi sono uscito a raccontare sotto forma di interrogazione il contenuto della Ninetta del Versè e non era un contenuto facile e a quell'età in particolare non è facile capire che non c'era proprio niente da ridere nelle parolacce che si trovavano e si trovano nella Ninetta del Versè così come nelle situazioni scabrose descritte minuziosamente come detto prima era più volgare il boccaccio assolutamente sì ma era un atto di denuncia sociale veramente oggi ma che oggi si parla tanto di violenza sulle donne si parla tanto delle donne ancora considerate oggetti ma dovremmo riprendere la Ninetta del Versè e leggerla in milanese poi chiaramente spiegandola ma per la importanza e l'attualità di questo pezzo di letteratura che come si possa ancora chiamarlo inferiore rozzo dialettale io sinceramente faccio un'enorme fatica non dico a capirlo ma anche ad avvicinarmi a comprenderlo ecco in occasione del bicentrano del porta noi stiamo organizzando delle cose con la nostra associazione ma tre altre cose ho appena finito da qualche mese una relazione di un circa stanta pagine porta poeta del popolo dove si faceva vedere quello che dicevo prima che porta non si interessava dei principi dei nobili ma era soprattutto uno di noi prima cosa seconda cosa c'è un altro discorso da sollevare che sarebbe interessante io su terra insubri ho scritto un articolo sarà qualche anno fa a proposito della questione spinosa della coine allora che spesso uno dice eh ma se la coine vuoi togliere di mezzo il milanese no sono due cose diverse è come la nazionale padana e l'inter il milan eccetera eccetera cioè ognuno ha due scopi diversi uno fa il campionato del mondo l'altro fa la champions league fa il campionato eccetera cioè fuori di metafora non è che perché ci sarà una coine non ci sarà più il milanese l'odigiano cremorese nelle scuole ognuno interesserà la propria studia la propria lingua poi quello serve a livello maggiore politico non limitiamoci che i catalani ma anche i baschi anche altri è vero che hanno la loro lingua ma è una coine non è che è una lingua solo di Barcellona eccetera eccetera è stato ricordato molto bene nella serata con il professor Tamburelli e il professor Mauro Tosco che appunto è stato sottolineato è stato veramente sottolineato questo fatto parlare di lingua lombarda non vuole dire cancellare il milanese cancellare il bresciano cancellare il bergamasco il bosino il comasco vuole semplicemente dire dar loro una lingua tetto e quindi con due risultati primo toglierle la lingua le lingue facente parte della lingua lombarda dalla lingua tetto italiana che le sta ormai devastando e seconda cosa dotare di tutte le varianti locali di quei neologismi indispensabili perché una lingua non sia soltanto un reperto museale del passato ma sia ancora un elemento vitale e identificativo della società che la usa permetti di sottolineare in chiusura una contraddizione dello stato italiota nella 482 viene definita la salvaguardia della lingua ladina mentre il milanese è un dialetto ora la lingua ladina non esiste esiste Mareo la lingua di Valmarebbe il ladino di Gardena il ladino di Ampezzo Fodom il fassano addirittura è diviso in tre parti Muenat Brac e Cazzet tant'è vero che io sono andato a Canazzei e gli ho detto altri due panini Outres Doi ma guarda il brutto fa è Outres Doi ah già Outres Doi è 5 km prima quindi quello è un insieme di varianti è considerata lingua dallo stato italiano il milanese è considerato dialetto ecco un'altra ipocrisia vergognosa ma questo molto probabilmente perché fa paura perché non mi ricordo più su quale giornale un po' di tempo fa un'intervista uno ha detto eh sì l'hanno fatto perché si consideravano il veneto il milanese una lingua vera e propria molto probabilmente a livello anche politico potevano ambire qualcosa di più e allora bisogna considerare le dialetti allora sono 32 le lingue regionali o minoritarie nello stato italiano secondo l'UNESCO do soltanto quest'ultima informazione che ancora io ho ripetuto molto spesso soprattutto in primi tempi che mi occupavo di questo di questo tema nel 1981 il consiglio d'Europa prima di arrivare alla stesura della carta europea delle lingue regionali o minoritarie che poi fu fu votata dall'assemblea nel 92 aveva condotto un censimento affidando al signor Cirici il compito di vedere quali fossero le lingue regionali o minoritarie parlate nei vari stati dell'allora e lì c'era il piemontese il lombardo allora c'era il piemontese detta lingua no io sono preciso non perché voglia essere una superiorità di queste lingue tutte però questo documento Cirici diceva esiste la lingua piemontese e si scrivono in lingua piemontese gli atti della regione non era vero ma che lo dicessero ovviamente era una cosa buona perché comunque davano importanza poi veniva riconosciuta la due venivano chiamati dialetti di prestigio in quanto di prestigio letterario il veneto e il meneghino il veneziano probabilmente perché era la parte più letterariamente nota con Goldoni sì perché poi c'è il veronese anche sì d'accordo però la lingua veneta è come quella lombarda è costituita da tutte e il meneghino per cui lo stesso consiglio d'Europa aveva censito la necessità censito censendo questa questa parlata questa lingua non è una solo una parlata ma questa lingua parlata a Milano e utilizzata a Milano aveva successivamente rilasciato una raccomandazione sull'uso delle lingue e dei dialetti in Europa dove se ne chiedeva la tutela quindi attenzione stiamo parlando del 1981 nel 92 sarebbe arrivata la carta nel 99 la legge 482 la legge infame sulla discriminazione delle minoranze linguistiche così io la chiamo perché questa è la sua vera denominazione al di là di quello ufficiale e noi 21 anni dopo la legge di discriminazione lo Stato italiano non ha nemmeno firmato la carta europea motivo per cui la firmata chiedo scusa ha detto un'inesattezza la firmata nel 2000 un anno dopo ma non l'ha mai ratificata quindi praticamente lo Stato italiano non ha in vigore la carta europea 21 anni dopo la promulgazione della legge che avrebbe dovuto successivamente darne applicazione io dico e qui mi fermo che è forse una fortuna perché se l'Italia come nelle ultime legislature è stato tentato di fare avesse riconosciuto avesse ratificato avesse votato la legge di ratifica della carta l'avrebbe fatto soltanto con le 12 lingue riconosciute e le altre sarebbero state probabilmente perse per sempre finché l'Italia non si decide a far calare la scura definitiva sulle lingue discriminate abbiamo un po' di speranza Pierluigi se vuoi aggiungere qualcosa altrimenti rischiamo la parola sottoscrivo vedevo Mimmo che prendeva appunti mi auguro io lo ripeto sempre ormai sono ogni volta che ripeto queste cose praticamente corro il rischio di addormentarmi perché mi annoio da solo però so anche molto bene che ci sono sempre persone che queste cose quando le dico mi guardano con due occhi come se io venissi da Marte a parlargli di Marziano come dicevano i barbari nel senso greco del termine cioè i forestieri ripetita Juvent io dico ripetita Juve e così la ti la tiro così caduti in bar è chiaramente uno sfotto che ci facciamo sempre io e lui e ci deve essere sempre se no non siamo io e Pierluigi dai ci mancherebbe altro simpatia ci mancherebbe altro allora io a questo punto se non vogliamo aggiungere altro le ore no se qualcuno ha qualche domanda ci sono domande Marco non so se vuoi segnalare qualche domanda io la chat non l'ho vista chiedo a Marco Peruzzi che è quello che fa da regista quindi può anche dirci al volo se c'è qualche una domanda più che altro anche forse un'osservazione magari la faccio anch'io abbiamo anche un altro problema questo secondo me che a differenza di altri territori c'è una grossa difficoltà nel riuscire a fare un po' la quadra fra di noi per difendere queste lingue locali noi abbiamo che per esempio in Catalogna nel paese basco in Scozia ovunque c'è il mi viene da dire l'intelligenza di riuscire a trovarsi tra le persone che si interessano di queste cose per riuscire a salvare un po' la lingua capendo che non è importante l'accento di qua di là la pronuncia di qua e di là quanto un codificare una lingua che poi ognuno si parla come vuole per arrivare a un far riconoscere una lingua in quanto tale codificata precisa come è stato fatto in tempi diversi col catalano e col basco se non ricordo male ma anche con altre lingue da noi questo manca totalmente manca a due livelli uno di esperti c'erano le virgolette sulla parola esperti cosa fanno cominciano a interessarsi di una lingua locale cosa fanno creano subito la loro grafia ci mancherebbe Carlo Porta era un pirla per cui cosa facciamo ne mettiamo un'altra ce ne saranno una cinquantina ognuna che litiga con le altre e ovviamente non se ne viene fuori più e poi c'è un localismo al contrario per cui trovi tanta gente che dice no io abito in un paese non ne dico un a caso se no qualcuno soffende un paesino di 3.000 persone è una lingua non è un dialetto è una lingua totalmente diversa dalla lingua del paese di fianco la parliamo in sei fra vent'anni la parleremo in due poi più nessuno però è una lingua non ci mescoliamo noi con gli altri ci sono questi due problemi temo irrisolvibili nel senso che sono proprio una caratteristica tipica del nostro modo di pensare di Lombardi no? non solo di Lombardi di Padani posso dirlo? ecco e dubito che ci sia una possibile soluzione su queste cose al di là che scusa dell'influsso della televisione globalizzazione eccetera eccetera c'è una piccola insignificante diversità che i catalani i baschi i scozzesi e via di questo passo sono etnicamente per il 90% catalani baschi e scozzesi non lo so eh no no perché in Catalunia la prima cosa che fanno gli immigrati o i migranti chiamiamoli come vogliamo quando arrivano a Barcellona la prima cosa che fanno è imparare il catalano sì ma la percentuale però non a caso c'erano qualche anno fa c'erano due due regioni tutti perché se non impari il catalano non lavori sì anche in Chiladini per avere per il lavoro eccetera eccetera anzi per fare anche l'insegnante per avere il patentino però purtroppo il discorso è un po' diverso nel senso che c'è questo piccolo particolare da parte che i catalani sì è vero che magari avvivano anche a livello di immigrazione però vorrei vedere le percentuali quante sono vorrei vedere i baschi in percentuale quanti sono gli scozzesi quanti sono e quindi è un discorso poi c'è tutto un discorso diciamo quello che a me fa più male è questo discorso identitario nel senso che quando c'è la Coppa del Re lì non c'è destra sinistra e centro quando c'è la Coppa del Re i baschi i catalani tutti indistintamente fischi e bordati incredibili quando c'è la semifinale di Coppa Italia Inter non so che o Milan eccetera eccetera essendo nel 1861 c'è l'innazionale e tutti con la mano sul cuore tranne il sottoscritto allora il problema è quello lì all'Olimpico di Napoli ogni volta che si suona l'inno d'Italia partono le bordate di fischi e il nostro Nando di Cè ce l'avrebbe potuto raccontare perché non l'abbiamo detto ma lui è di quella parte lì sì ma quella è una piccola eccezione ma dovunque cioè c'è una italianizzazione che potremmo dire definirla come globalizzazione a livello minore a livello italiano che è una cosa impressionante cioè la gente ha bisogno anche di che gli vengano aperti gli occhi anche se purtroppo io faccio sempre una battuta non riusciremo mai a fare la secessione per un semplice motivo non perché la gente se si va nelle strade a sparare ha paura che qualcuno veniva ucciso ma perché se si crea un caos a livello di rivoluzione si rischiano di perdere due cose importantissime il campionato di calcio Sanremo ecco purtroppo essendo questo il livello io ho forti dubbi cioè sul cambiare le cose ascolta ti dico anche un'altra cosa però venendo da un'esperienza inclusiva che si è avuto il suo top nel 2010 2011 quando avevamo dato vita a quella famosa pagina a quel famoso gruppo di facebook che ti ho ricordato prima proprio perché dalle alpi non dico le piramidi perché no non in Egitto ma dalle alpi fino in Sicilia tutti e si erano mobilitati contro il tentativo della RAI attraverso il famoso spot in occasione dell'unità d'Italia di farsi passare come la grande unificatrice perché soltanto grazie alla RAI con il suo italiano permette agli italiani di capirsi e quindi facendo passare ancora una volta i cosiddetti dialetti come qualche cosa di vecchio di rozzo e di ridicolo lì eravamo stati capaci non soltanto di mobilitarci tutti e è stata un'esperienza splendida sulla quale io mi riprometto prima o poi di scrivere anche un qualche cosa perché non può rimanere lettera morta era stata presa l'occasione per istituire adesso è in sonno il comitato di salvaguardia dei patrimoni linguistici dove erano rappresentati tutti dalla Sicilia al Piemonte alla Calabria c'erano tutte le lingue regionali o minoritarie dello Stato italiano che si erano messe insieme per cui l'esperienza non è che non sia mai stata fatta è stata fatta ma quando è stata fatta quando è arrivato un attacco che coinvolgeva e sostanzialmente faceva del male a tutti perché lì veramente dal centro passava l'idea che belli che bravi che vi abbiamo asfaltato ma se la cosa rimane sempre a livello di divide timpera allora la regione Lombardia fa la legge sulla lingua lombarda e in Lombardia tutti si scannano scannano quelli che l'hanno fatta perché? perché sono i brutti cattivi secessionisti eccetera invece la mia esperienza nasce proprio dall'essere inclusivo e non solo ma anche contrariamente contraddicendo un po' forse quello che abbiamo detto prima staccando nettamente la questione dell'assetto dei territori rispetto alla questione della lingua e questo perché se non fosse stato per alcuni membri del comitato di salvaguardia dei patrimoni linguistici che tutti tutto erano e tutto sono forché tu dici secessionisti ma non si parla neanche di autonomia e di federalismo non essendo proprio niente anzi ostili a qualunque genere di passaggio dei poteri dai centri alle periferie ma sul discorso linguistico eravamo tutti a fianco ed è stato grazie a questa lobby per esempio lo ricordavo nella mia ultima nel mio intervento sia in radio che di sabato per esempio a Bergamo Gori ha si tolto il cartello Bergamo però anche se in piccolo e quindi è ridicolo e tutto quello che vogliamo però è stato obbligato in piccolo Bergamo a riscriverlo anche sui cartelli che ci sono adesso e questo perché perché è stata fatta una lobby trasversale che prescindeva da tutti gli altri discorsi quindi strategicamente se dobbiamo ragionare su questo tema stiamo attenti sappiamo bene che tu potrai essere un indipendentista potrei esserlo anch'io ma potrebbero esserci anche dei federalisti o dei semplici autonomisti o anche gente che come tu ricordavi ha il busto di Mussolini per cui è antitetico a qualunque idea è l'obiettivo ecco però sull'obiettivo sull'obiettivo se siamo capaci di stabilire un minimo comune denominatore che è l'applicazione della carta europea a tutte e 32 le lingue allora a questo punto possiamo avere qualche speranza però dobbiamo avere le idee molto chiare noi perché se cominciamo ad andare a presentarci poi Pierluigi dice io sono indipendentista no 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 il discorso è un altro io faccio un altro discorso ho capito io però stavo cercando di ragionare a livello strategico io faccio un altro discorso no non voglio dire sono come quel allenatore perché non posso dire mi si ripugna perché quello c'ha 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 quel quel marchio peccato originale però quel signore lì dice io vado ad allenare di qua di là di là e di là al di là della bandiera a me non mi interessa il discorso stesso io posso avere le mie idee però se mi chiama Lega Salvini se mi chiama Rifondazione se mi chiama Fratelli Italia cosa me ne frega se c'è io devo farla portare avanti il mio messaggio culturale io lo porto dovunque non guardo la porta dove entro però c'è un'altra cosa da sfatare che purtroppo spesso e volentieri lo stato centrale centralista fa di tutto per per avallare spesso c'è luogo comune mi diceva purtroppo che mio padre tra l'altro è curioso perché me lo diceva il milanese in italiano ma cosa ti parli il milanese che dopo ti impari più l'italiano cioè come se uno che parla una lingua locale invece è vero il contrario molti psicologi o anche psicoterapeo dicono che se tu impari due lingue invece di una il cervello è molto più ricettivo e quindi lo troviamo scritto anche su Repubblica è incredibile anche su Corriere lo troviamo scritto queste verità che si insegnano nelle università di tutta Europa il professor Marco Tamburelli al professor Marco Tamburelli lui è il primo insieme alla professoressa su Race in Scozia a insegnare esattamente queste teorie per cui non rimaniamo più provinciali nell'Ottocento siamo nel 2021 cerchiamo di adeguarci peccato che lo Stato centrale ragiona ancora provinciale perché lo Stato centrale è nato nell'Ottocento e rimane fisso nella mentalità ottocentesta tra l'altro chiudiamo con un cenno storico la grossa cosa di propaganda quello sciagurato centocinquantesimo è stato fatto nel 61 giusto? centocinquantesimo nel 2011 no 1861 ah sì ok 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 sì allora ok cosa vuol dire 105 a 61 non c'era ancora il Veneto che hanno fatto le truffe poi le vissute nel 66 e non c'era ancora Portapia nel 70 quindi è come dire io inauguro una casa quando manca ancora il tetto le persiane il portone d'ingresso una roba meramente di propaganda già il fatto che il re si sia chiamato si sia continuato a chiamare Vittorio Emanuele II esattamente come era il re di Sardegna è anche una dimostrazione di un altro fatto che quello che si è venuto a creare dopo quindi lo stato italiano unitario non era un nuovo ordinamento giuridico ma era semplicemente un'espansione del regno di Sardegna quindi non c'era una volontà unitaria ma una volontà egemonica che si è espressa attraverso un esercito che ha comunque conquistato territori che non gli appartenevano la dinastia regnante ha mantenuto la stessa numerazione ed è rimasto lo statuto Albertino quindi ancora una volta è stata tutta un'operazione di propaganda per tornare alla lingua per tornare alla lingua poi chiudo se non annoio allora c'è una bellissima poesia La gloria di Dialet di Luigi Medici di cui ho tradotto qualche anno fa un suo testo in latino da latino milanese e questo praticamente il senso era questo lui lo diceva praticamente in senso patriottico siamo tutti italiani eccetera eccetera però il succo era questo diceva è vero che siamo tutti italiani però citava fatti storici i piemontesi hanno detto Wee Bujanen quell'altro in Liguria il Balilla che linse il playboy che non saliva mai il matore sceso scuolta la battuta ha detto Tireminas cioè ognuno parlava la sua lingua per cui è un po' come la storia di Sanremo che non si fa le lingue locali cioè e dire io dico porto avanti il discorso dello Stato italiano trascurando le lingue locali che sono quelle che le comunità che l'hanno formato è come dire o giudicare la unzichero chi vuoi tu diciamo però togliamoci le tette il seno il culo le gambe cosa rimane lo scheletro quindi non puoi anche se vuoi fare un discorso a livello diciamo statale o nazionale chi dir si voglia ma comunque in un caso o nell'altro non puoi prescindere perché quello Stato lì che si è benedetto o maledetto hanno concorso a formarlo questa gente fino all'unità d'Italia si dice perché è lingua ufficiale non nazionale perché mentre tutti parlo in portoghese qua l'italiano non dico schivolo ma parlarlo lo parlava al 3% perché a cominciare dai Savoio dagli altri chi parla in francese chi fa c'è quindi tu vuoi fare un discorso di unità linguine unitario trascurando i fattori che sono quelli che hanno concorso l'unità è un controsenso una di lingue d'armi diceva eh allora esatto e invece sappiamo benissimo che sono tante lingue che hanno concorso e poi andiamo a vedere letteratura a cominciare dalla scuola siciliana di Cello d'Alcamo per arrivare le varie parlate non è che c'è una parlata unica tutte le altre non contano un punto significa essere ignorante essere in malafede Luigi penso che il discorso continuerà ancora purtroppo molto lungo io vorrei che finisse perché almeno vorrebbe dire che abbiamo risolto abbiamo vinto le nostre battaglie abbiamo risolto tutto e ci dedichiamo a qualcosa o alla pensione facendo gli umarel guardando i lavori o ci dedichiamo ad attività più piacevoli che sta qui a ripetere sempre le stesse cose quando poi apri un giornale tu vedi che quello che hai fatto il lavoro della tua formichina basta che arriva un acquazzone e il tuo lavoro deve di nuovo ricominciare adesso chiudo con la battutaccia proprio adesso scusa ma voglio andare a vedere se i centralisti di Madrid sono riusciti a perdere va bene allora naturalmente non si può esulare dal calcio quando abbiamo il professor Trolla allora grazie a Pierluigi naturalmente ciao è stato un piacere speriamo di risentirci ancora prossimamente quindi qualsiasi altra volta sempre disponibile anche perché queste cose insomma nascono dal cuore quindi al di là dell'associazione Neto Tarens tutta l'associazione che io ho tutti i quaderni perché a questo discorso uno ci tiene quindi collaboro volentieri mi fa molto piacere intervenire quindi qualsiasi involta vogliate chiamarmi io non ho assolutamente problema anzi per me è un onore soprattutto un piacere portare avanti questi argomenti e speriamo che anche tramite Youtube o i canali internet raggiungano il più possibile le persone che facciano non dico convertirli ma quanto meno che possiamo mettergli una pulce nell'orecchio questa gente seminiamo il dubbio seminiamo il dubbio però quello che mi hanno detto fino adesso forse non è vero allora forse c'è anche un'altra parte della verità non è solo una quindi speriamo di essere riusciti almeno in minima parte a cercare di dare una mano a togliere a far venire qualche dubbio a qualche persona che magari ancora granitica è col parocchi guarda speriamo naturalmente ci stiamo scornando contro il muro già da qualche annetto per cui continueremo a farlo continuiamo speriamo grazie Pierluigi Crolla naturalmente grazie adesso non lo darò io perché cedo immediatamente la parola a Marco Peruzzi ringraziando ancora una volta l'associazione Oneto per queste bellissime serate del drago e per l'onore che mi ha voluto regalare chiedendomi di essere io a condurle grazie ancora e linea a Marco Peruzzi sì allora grazie a tutti per averci seguito la prossima conferenza tornerà a parlare dei temi a noi cari di autonomia di federalismo di indipendentismo il titolo provvisorio dovrebbe essere le regioni dell'autogoverno e avremo con noi il professor Carlo Lottieri e il professor Alessandro Vitale quindi sarà un'altra serata penso piuttosto interessante grazie a tutti per essere stati con noi e ci vediamo settimana prossima buonasera grazie buonasera a tutti